Ciao a tutti, da Marco Domeniconi, il vostro, spero, consulente musicale preferito. Oggi torniamo negli anni Ottanta, vi presento una band, non era proprio dark, poi cambiò genere, i cult! Gian Aspoli, il cantante, era intrippato di miti sui pelle rossa, microfagia, tipo postrano. Calde 1985, un suono robusto, quasi gotico. E questa era Rain, dell'album Love, cult! Invece Scalpore anche questo video pose, sentiamo un pezzo di un album successivo, un po' più rock. Questa è White Flower, sono in questo album, viene dopo. Questa è White Flower, vi c'era anche una bella versione di Bone to the Wild, di Stephen Wolf, questa. A me piacevano i cult, anche se erano un po' tamarri, si ballavano. Pierre Poluzi è poi ispirato a Gian Aspoli dei cult. Faremo anche una puntata dedicata agli Steppe Wolf, quelli originali che fecero questo Bone to be Wild. Alla prossima! Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi, Marco Domenicone. Grazie a tutti!